Sono finora tre le operazioni in entrata soltanto da ufficializzare. Scuzzato, Tuniov e Masala. Centrocampo, il 23enne San Nepoli ha superato il collo del Delicarri, deciso a ingaggiare la mezzala di proprietà del Latina. Un solo anno di contratto scadenza 30 giugno 2024. Parti al lavoro per il calciatore pronto triennale di ruolo San Nepoli e una mezzala di gamba e di inserimento caratteristiche adatte al gioco di Zeman. Lo scorso campionato nel 3-5-2 disegnato da Didonato è stato utilizzato da esterno tutta fascia a destra con ottimi risultati. Al primo anno tra i professionisti 36 presenze, 4 gol di cui uno bellissimo l'Adriatico contro il Pescara. Per caratteristiche l'ipotesi terzino destro non è affatto peregrina, giocatore versatile. Nelle prossime ore vertice telefonico con l'Empoli per sbloccare il ritorno di Davide Merola che verosimilmente si concretizzerà all'inizio della prossima settimana. Strada in discesa, il calciatore ha in testa esclusivamente il Pescara. Non solo, il contratto di Merola scade il prossimo anno 30 giugno 2024 e l'Empoli non ha mai proposto il rinnovo. Alla fine prevarrà il buon senso, soprattutto la logica. Chiusura imminente per il 22enne terzino Roberto Pierno, ex Virtus Francavilla di proprietà del Lecce. Operazione a titolo definitivo con una percentuale a favore del club Salentino sulla futura rivendita del calciatore. Pierno si legherà al Delfino con un contratto triennale. In arrivo con la formula del prestito e la classe 2004 del Genoa Federico Accornero. Si tratta di un esterno d'attacco di piede destro che nell'ultimo campionato di Primavera 2 ha realizzato 19 gol in 28 gare. Non ci sono sviluppi su Simone Russini. Tentato da un'allettante offerta del neopromosso e ambiziosissimo Catania. Dell'Icarri aveva già trovato l'intesa col Padova, proprietario del cartellino, e con lo stesso calciatore, contratto binnale, resta calda la pista Massolo. Al momento il 27enne portiere in uscita dal Palermo rimane il candidato più accreditato a ricoprire il ruolo di vice plizzari.